Allora, sta piovendo, è la prima nostra esterna, quindi tutti potrebbero dire che sfiga, ci siamo beccati proprio la pioggia durante l'esterno e invece, invece, invece no, guardate che fighissimo pavimento bagnato che abbiamo con tutti i riflessini il che ci torna veramente utile per la scena e sembra che l'abbiamo bagnato a costa e invece no, è la pioggia che ci rompe i coglioni però siamo obiettivamente contenti, adesso dobbiamo capire solo se per 15 minuti lui facciamo il primo piano di Glenn, magari smette un attimino, così ce lo facciamo tranquilli qui andrà sicuramente così secondo me sì